questo nuovo video oggi siamo su pizza almeno si chiama così dal titolo lasciate like, iscrivetevi, non mi viene più niente, attivate la campanellina se volete e andiamo al gioco 3, 2, 1, leggiamo una focaccia per favore diciamo se signora che cosa? perché in questo gioco se non indovini sei fregato sei fregato sei fregato basta niente sopra per favore fammi una pizza con niente ok una pizza con niente quindi solo l'impasto immagino si decisamente solo l'impasto ma maledetta signora che mi viene sopra e però si deve girare chiudere la corsa e già è pronta già è pronta la tagliamo ok voglio mezza salsa e salame piccante mezza mozzarella barb bene signora sei sempre la benvenuta ricordalo allora quindi ho detto clicchiamo sopra perché o se no non possiamo vedere chissà tutti sbaglio la mia ordognazioni mi serve semplicemente metà picc... eh no aspetta ok voglio andare su quella di sotto che vedete qui sotto verso questa direzione ok voglio mezza salsa e salame piccante e mezza mozzarella quindi piccante salame e mezza mozzarella mezza salsa mezza e salame piccante e mezza mozzarella capiti 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 aspetta posso con la videocamera che occupa sì yes raga dobbiamo ricoprire tutto è da assai che non gioco oh cacchio è da assai che non gioco a questo gioco per questo posizioniamo tutti tutti i salami buoni cattivi ancora un po' in mezzo in mezzo in mezzo e adesso lo mettiamo a cuocere dai 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 quanto cacchio ci sta no la signora allora la buttate non ho fame maledetta maledetta buttala nell'acqua bravo e adesso ragazzi incazzano tutti con me scusate la parola ma si incavano tutti con me salami piccante no non l'accetto salami piccante no salsa mozzarella e salami piccante capito ho finalmente una signora che si ha ragionato quindi ricopriamo qui di tutto la mozzarellina e dopo mettiamo mozzarella anzi salsa e mozzarella e salami a caso stavolta non come prima belli ordinati perché tutti i signori si arrabbiano con me io non voglio fare il mio lavoro maledetti che si arrabbiano con me si coglioni e questa la butta pure no no questo è uguale no questo non è uguale quindi la butto e questa la taglio due sette ho solo quattro ho solo quattro sì sono quattro ho fatto ho fatto e ho fatto se mai intanto la maglietta di pallone sta accattato bellissima bella ah e accetta come ti devo dare lazza così bel lavoro ci è voluto un po' troppo però grazie signora mi ha detto lei abbiamo perso 17 secoli non è venuto non è venuto posso dire con le mie parole quindi ora ci mettiamo di impegno e lavoriamo ancora di più perché non guadagniamo un cacchio infatti dobbiamo fare di cominciare mortacci tua sua aspetta divento 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 invisibile non ha funzionato è vero meno che non abbiniamo però senza che ce ne andiamo a fare è saltato tutta questa storia noiosa perché è brutta come non lo so ehi ne vorrei una salsa salame voglio dire solo salame piccante vabbè spiegati meglio per favore fammi una pizza con mezza salsa e mozzarella e mezza salsa e mozzarella e salame piccante quindi mezza mezza con intera pizza con salsa e mozzarella ti potevi spiegare meglio signore ti potevi spiegare meglio ma sei un cretino ti dovevi spiegare meglio ora io infatti ti butto queste cose scherzo perché prima mi è pagato poco la tizia quindi mi metto bene adesso andiamo a vedere la nostra cacchio di pizza brutta allora il signore è a 51% è qua proprio sopra di me qui 47% vi devo sbrigare intanto qua c'è il mio fratello che fa il cretino solo che voi non lo vedete quindi niente ha di una pizza grazie prego amico sei sempre il benvenuto ciao mi vorrei una mezza mozzarella e salame piccante e mezza mozzarella taglia in otto fette salame piccante non sentite il mio fratello potete sentire alcuni suoni strani da qualcosa del suo corpo scherzo otto fette ha detto queste sono quattro giusto non mi tradisce la matematica otto fette una due tre quattro cinque sei sette otto sono un campione sono un campione no si era arrabbiata grazie sei sempre benvenuto signora spiegati meglio prima che finisci la felicità fai una pizza con mezza salsa e mozzarella e mezza salsa e mozzarella e salame piccante va bene per chi non avesse capito tutto salsa tutta mozzarella e salame piccante semplice ragazzi miei ragazzi miei intanto abbiamo otto minuti e registrazione buonissima e io quando arrivo all'ultimo lavoretto chiudo il biglietto praticamente questa è la pizza della vita oggi facciamo fuori la mettiamo qua ok non la vuole non la vuole tagliata tieni la pizza potrei provare a mangiarla come se fosse solo una pezza non l'ho capito vorrei spi 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 fai una pizza con mezza salsa e mezza mezza salsa e salame piccante per chi non l'avesse capito tutta la salsa e tutto il salame piccante ormai io sono un gioco no ho cliccato la telecamera moltacci adesso mettiamo tutta tutta la salsa che vediamo qua è un botto di salame perché lui ha ordinato poco e credo di aggiungere ancora salsa che ne dite che ne dite direi buonissime ragazzi abbiamo finito l'ordinazione del giorno quindi perfetto e seppure mi ha detto di quante fette di ognuno tagliarle e no ognuno la tagliamo non spiega energia tieni signore mio sei il più benvenuto per ora nessun lamentela credo è un'affesa è un'affesa è un'affesa boh non mettere così e abbiamo guadagnato 52 centesimi siamo ricchi siamo ricchi e intanto il video è a 10 minuti preciso quindi ci sono motorini fuori fuori che rompono quindi direi ragazzi e non lo so che cosa c'è scritto e quindi ragazzi questo video finisce qua lasciate like iscrivete attivate la campanella in tutte le notifiche e io vi saluto in modo b****